Civico 17, il condominio dove si collaborava come in un'impresa a carattere familiare, peccato però che l'attività realizzata era di natura illecita. A raccontarlo viene in mente lo spaccato di una Napoli milionaria dove nel dopoguerra tutti si adoperavano per sbarcare il lunario con tutti i mezzi possibili, leciti ed illeciti. Qui nella cittadina di Castel San Giorgio, al Civico 17 appunto, nome dal quale ha preso l'indagine dei carabinieri del reparto territoriale di Noceara Inferiore guidati dal colonnello Gianfranco Albanese, ha portato a sgominare un gruppo organizzato dedito allo spaccio di stupefacenti, ma non solo. Questa mattina all'alba i militari dell'arma hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emesso dall'ufficio GIP del Tribunale di Noceara Inferiore sul richiesta del procuratore della Repubblica Antonio Centore, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per quattro persone e la misura cautelare non detentiva nei confronti di altre quattro colpite dal divieto di dimora nella regione Campania. Gli arrestati sono ritenuti a vario titolo responsabili di tentata estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi comuni da sparo e da guerra a Kalashnikov per reati commessi tra giugno 2021 e luglio 2022. L'operazione dei carabinieri ha interessato le città di Noceara Superiore, San Giuseppe Vesuviano, Castel San Giorgio, Scafati, Noceara Inferiore ed ha anche un altro comune del territorio nazionale in cui uno degli arrestati è ristretto per altra causa in un istituto penitenziario. Le otto persone coinvolte avevano messo su una piazza di spaccio a conduzione prevalentemente familiare, inizialmente presente sul territorio di Noceara Superiore, poi trasferita a Castel San Giorgio presso l'abitazione di tre degli indagati all'interno di un fabbricato del Civico 17 dove all'epoca dei fatti risiedevano alcuni degli arrestati. A gestire la piazza di spaccio, per quanto emerge dall'attività di indagine certosina dei militari dell'arma, era una donna originaria di Noceara Inferiore e ci è queste le sue iniziali, 52 anni, ritenuta responsabile anche di un tentativo di estorsione, finalizzato a recuperare una somma di danaro provento dello spaccio al minuto di cocaina e crack condotto con il compagno DMV, 36enne di Noceara Superiore, arrestato anche il 14 giugno 2022 perché trovato in possesso di cocaina ed hashish, da cui a origine poi l'indagine denominata successivamente Civico 17, abitazione dove risiedeva la donna poi trasferita a Noceara Superiore, dove viveva insieme al 36enne finito in carcere nel 2022 e dove lei ha continuato a gestire l'attività di spaccio itinerante, appellato così dagli inquirenti, avvalendosi anche dei suoi due figli nati da una precedente relazione sentimentale, un maschio ed una femmina. L'attività si era estesa a vari comuni dell'agronocerino sarnese, Noceara Superiore, Rocca Piemonte, Castel San Giorgio, Mercato San Severino, Cava dei Tirani e Scafati. L'attività della 52enne aveva preso il via nel comune san giorgese, dove inizialmente si avvaleva della collaborazione di alcuni condomini dell'abitazione al Civico 17 che sconosciute alle forze dell'ordine in quanto incensurati provvedevano a custodire, tagliare e confezionare la droga, smerciandola all'occorrenza. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti alcuni interventi d'iniziativa che hanno consentito il rinvenimento e sequestro di diversi stupefacenti in una circostanza 105 grammi di cocaina pari a 483 dosi nella disponibilità di taluni degli indagati. Un particolare ancora più inquietante emerge dalle indagini dei carabinieri del reparto territoriale Nocerino il coinvolgimento di uno spacciatore scafatese finito in manette insieme alla donna ed al compagno. L'uomo deteneva illegalmente infatti diverse armi da fuoco di cui almeno una pistola Mark Glock modello 17 e tre fucili mitragliatori marca Kalashnikov particolare emerso grazie all'analisi informatica dello smartphone trovato in possesso di uno degli arrestati. È su di lui che ora si starebbero concentrando le indagini degli inquirenti per individuare eventuali collegamenti ed altre eventuali organizzazioni criminali più grosse. L'organizzazione sgominata oggi non faceva infatti uso di armi. Sembra che dalle intercettazioni telefoniche possano emergere collegamenti anche con personaggi di spessore criminale attualmente detenuti. Anche la stessa attività di spaccio si svolgeva grazie ad una rete telefonica con gli avventori peraltro tantissimi e tutti segnalati alla prefettura salernitana attraverso la quale questi prenotavano il quantitativo che da 52 anni faceva trovare già pronto al momento del ritiro. Pare che anche stamane sul telefono della donna siano giunte telefonate di prenotazioni durante il blitz dei carabinieri. Per le quattro persone per cui sono state disposte misure non detentive è stato previsto l'obbligo di dimora fuori dalla campania ad evidenziare il pericolo di reiterazione del reato di spaccio vista la natura itinerante dello stesso. Grazie a tutti.